Per la ventitresima giornata del campionato di prima categoria, Girone A, il GS Troia ha ospitato la ruvese domenica mattina. Una gara determinante in chiave salvezza che i gialloverdi si sono aggiudicati con il risultato di 6 a 2. Manca un solo punto per ottenere matematicamente la conferma della permanenza in prima categoria e mancano tre giornate al termine. Gli autori dei gol sono stati Michele Marino che ne ha realizzati 5 di cui uno sul rigore e il capitano Maurizio Piscopo. Per la prossima giornata la formazione di Bertozzi farà visita alla Virtus Molfetta. Ottimo il risultato anche della nuova Daunia Foggia che ha battuto 2 a 0 in trasferta e Real San Giovanni e resta prima in classifica.